Potrebbe essere un ferragosto all'insegna della cultura quest'anno per quanti rimangono in città e si godono le bellezze di un centro sicuramente più tranquillo. Aperto il Museo Civico con la mostra Senza Nuvole degli artisti Silvano Tessarollo e Alberto Scodro. Aperto anche Palazzo Bonaguro e Torre Civica con la mostra sugli abiti e la moda del Bassano Medievale. Ancora aperto Palazzo Sturme, in questo caso offre la mostra sul Piranesi, e il camminamento lungo le mura a Santa Maria del Colle. Non mancherà domani, sabato di ferragosto, nemmeno il mercato settimanale.